L'Olanda ha dato in vantaggio con l'interista Bergkamp, vedete Bergkamp si disimpegna abbastanza bene, c'è questo rimpallo e poi c'è il gol. Bergkamp va a segnare il primo gol dell'Olanda, però l'Olanda ha beccato anche un gol da Nader, giocatore del Marocco, l'avete visto, e questo risultato ha fatto trepidare un po' i tulipani che sono riusciti a vincere con il foggiano Roy, Roy che ha realizzato quello che stiamo per vedere sul cross di Bergkamp, ecco Roy 2 a 1 per l'Olanda contro il Marocco.